La prima volta che Ferrari vengono il Grand Prix era nel 1968. Comandatore Ferrari disse alla fine del 68, dobbiamo un po' voltare pagina. E lui mi chiese più o meno cosa volevo fare. Agli albori della Formula 1. Quando l'audacia era più di un simbolo di coraggio. Nel tempo in cui la fiducia nei meccanici era l'unico talismano per affrontare la morte. Arrivò una macchina con un motore rivoluzionario. Destinato a dominare un decennio. Ribaltando le sorti di una scuderia leggendaria. Un motore piatto nacque per l'aereo privato. E' stato molto Ferrari. L'auto più elegante in Formula 1 genera energia nell'aria. Gran premio d'Italia, il grionco della Ferrari. L'auto più elegante in Monza è la migliore cosa che può accadere. Ragazzoni dominatino all'ultima curva. Un motore fantastico. Aveva quella magia di rappresentare un mistero. Ferrari 312 B. Solo il 9, 10, 11 ottobre al cinema. Info e biglietti su nexodigital.it Non scurta di un contatto. Non scurta di un progetto. L'auto più elegante.